Per te che sono verdi gli alberi, è rosa e fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città, è per te... Santiago dorme beatamente, incurante di tutte le persone che lo osservano. Carlo è curioso, si guarda intorno, Achille semplicemente beve il suo latte. Sono solo alcuni dei piccoli presenti, purtroppo il numero minore dalle aspettative per la neve, alla sala del Consiglio della Banca del Valdarno per i beneficiari del bonus Bebè 2018. 23 coppie dei soci dell'Istituto di Credito che nello scorso anno o hanno avuto un figlio o ne hanno adottato uno, hanno dunque ricevuto un emonumento per le spese immediate pari a 300 euro ciascuno. Ormai una delle tradizioni della Banca del Valdarno, non abbandonata neppure adesso con l'ingresso del gruppo Icrea. Adesso ad aprile anche il premio al merito scolastico per i diplomati e laureati. Ascoltiamo però intanto una delle mamme presenti, felice per il riconoscimento ottenuto. È un riconoscimento importante per questi nuovi bambini, futuri grandi, via, ecco. Questa banca ci vuole bene, via, ecco. Primo? Primo, sì. Quanti mesi? Sei mesi, sei mesi. Si sta guardando intorno, non si rende? È un bambino curioso, sì, infatti. Sì, sì, è un bambino curioso. Sì, è un bambino curioso.